A Santo Stefano in Aspromonti comincia storie Peppe Musolino L'Obriganti, la vera storia tra Cante e Cunti, ora ve la presenta a tutti quanti. Giuseppe Musolino fu accusato di aver sparato contro Vincenzo Zoccoli e fu condannato ingiustamente, anche se la sua discolpa viene avallata dai carabinieri del luogo che dopo vari accertamenti avevano stabilito che i colpi di fucile uditi quella mattina del 29 ottobre 1897 furono sparati dalla picciotteria locale. Il giudice però non crede all'esistenza della malavita organizzata e dichiara Peppe Musolino colpevole, rovinando così tutta la sua esistenza. Peppe Musolino nasce il 24 settembre del 1886 da Giuseppe e Angela Filastò, famiglia di brava gente, rispettata e onorata. Musolino Da nuva a Isilla, sbrumontano, comincia a storia Peppe Musolino, un amico sempre a porta di mano, nuve ero gente l'uomo malandrino. Musolino E Peppe era un giovane d'onori, sapeva tutti i regole e doviri, e l'umeltà regnava in dosso cori, ad un sogno pronto a favoriri. Giovane e abile, di cuore nobile e generoso, ma nello stesso tempo audace, forte e ribelle. Già a sette anni, il parroco del paese, Don Giuseppe Mangieruta, lo aveva definito Spostumatello. Spostumatello Musolino Ma la sfortuna volle che la madre morì ancora giovane, e questo influì molto sul carattere di Peppino, che passa la sua infanzia tra le vie e le bettole del paese, tra i boschi e i sentieri dell'asplomonte. Musolino Musolino L'uso talento fu riconosciuto, e la picciotteria fu sergiugato, era un figlio forte e risoluto, ma certa gente l'hanno invidiato, e fu destino sordi su a crudeli, che Peppi si ritrova a lottari, contro l'infamata e i galeri. Musolino E l'ingiustizia di i tribunali, contro l'infamata e i galeri, e l'ingiustizia di i tribunali. Musolino E Peppo Musolino amo da pace, non si pensava mai che aveva temici, eppure un obbile infamico capace, ma rende la vita stuomo assai infelice. Musolino 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 Musolino